La dove l'ordine viene infranto, la dove regnano caos e crudeltà, la aggiungono i giustizieri. Siamo ovunque ci sia bisogno di noi, sempre pronti a tutto. La nostra corazza è senza pari. Il modo con cui vengono forgiate è un segreto del nostro ordine. Prega di non aver bisogno di noi. E quando ci vedrai arrivare, prega di essere nel giusto. A Valkenheim stava già cadendo la neve. Ma andammo comunque. Io sono Olden Cross. Come comandante dell'Avanguardia dell'Ossidiana aspetta a me fare strada. Un'imboscata. Proprio quello che speravo. Un'imboscata. 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 I'm inimicus! All about me! Sanno che siamo qui, muoviamoci! Ovunque andiamo, la tranquillità conosciuta come civiltà. Cessa di esistere. Una convenzione sociale così facile da sbriciolare. Facile. L'entrata per Valkenheim. Spostate quella robaccia! Spostate quella robaccia! Fuori dai piedi! Fuori dai piedi! Bisogna fermare quelle catapulte. Non era un buon piano, ma non c'era altro modo. Il cataclisma non fu un unico evento, ma molti. La terra si sollevò e si inabissò. Dal cielo piovero fuoco e cene. I mari si ingrossarono e poi si ritirarono. Siamo vivi per miracoli. Siamo vivi per accedere. Devo fermare quella catapulta. Siamo vivi per accedere. 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 Oh Ad mortem in omicuus! Devo riunirmi all'avanguardia. Eravamo preparati per quei luoghi. Alzate! Avrei forse dovuto dare al guardiano il comando dell'assalto? Forza! Valkenheim, patria degli invasori che si fanno chiamare vichinghi. Sono ormai 40 anni che un cavaliere non supera il confine della grande vallata. Comunque fosse andata, saremmo di sicuro entrati nella storia. Prova su un ponte libero. Maldita! I vichinghi fanno razzie ogni anno sin da quando ho memoria. Sa che... I vichinghi avevano i numeri. Noi, la tecnologia. Bentornato, signore. Questi ponti non sopportano grandi pesi. Sì. 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 Ad mortem, inimicus! Devo trovare i comandi del ponte. I comandi del ponte. Devo trovare i comandi del ponte. Non potevamo lasciare degli uomini a guardia dei prigionieri. Oh! 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 Signora, questa belva ha ucciso 40 soldati, compreso Davis Sai come distinguere un predatore da una preda? Non si può, a meno che tu non li veda lottare Quaranta, molto bene Credevo che la sua selezione si limitasse a noi Grazie